ultimamente mi sono avvicinato molto con fibra perché c'è sempre stato questo un po sfiducia a distanza per un po di anni poi in realtà un momento di distensione anche proprio a radio dj l'ho visto che diceva hax sentendo la sigla di venerdì rappa non sai quanto mi ha ispirato fratello mio allora io e fibra che non avevamo mai collaborato abbiamo fatto questo pezzo con un rapper francese si chiama bosch tra l'altro fatto disco d'oro anche in italia questo disco quindi nasce da un riavvicinamento allora è nato in una maniera strana mi sono venuti a chiedere a me ma lo faresti un pezzo con fibra adesso francese e io ho detto sì ma fibra forse non lo farebbe no ma fibra mi ha detto che lo farebbe allora a quel punto ci siamo visti al ristorante col pesce sai queste robe da lì siamo insomma fibra fibra forse è l'unico che c'è ancora oggi che veramente fa parte ancora di quella scena lì la quella primordiale